Piovono regali Papo Natale è molto buono Papo Natale porta i regali solo ai bambini buoni e ai cattivi non portano nessun regalo Per me il Natale è stare in famiglia e divertirsi ricevere regali e giocare insieme Io vorrei dare i regali a tutti e ricevere i regali a chi? Natale per noi significa l'albero della vita che risplende sempre della luce di Dio Mi piacerebbe essere un dottore perché a me piace prendere il cuore delle persone soprattutto l'Italia Il Natale si festeggia solo in un modo Sì, solo in un modo si festeggia come festeggiano tutti Sono molto felice che è venuto Natale così restiamo a meno un po' in casa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti